Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Kirio e queste sono le news della settimana, come sempre tratte dai siti Manga Forever e Anime Click. Prima di andare avanti vi dico che ho lanciato un piccolo contest su Instagram dove grazie a dei semplici passaggi potrete vincere questi due volumi, quindi Mao e A cena con la strega, le ultimissime uscite della principessa dei manga Rumiko Takashi, quindi andate subito sul mio profilo Instagram. In occasione di un evento di Fuji TV è stato pubblicato un nuovo video promozionale per Beastars 2, adattamento del manga di Paru Itagaki, e rivelata la data di debutto dell'anime. Nel trailer è possibile anche ascoltare l'opening Kaibutsu del duo Yao Sobi. In Giappone la seconda stagione di Beastars debutterà su Netflix il 5 gennaio con un episodio a settimana e andrà in onda a partire dal 6 gennaio all'interno del contenitore Plus Ultra di Fuji TV. Titan Kusonoki, Subaru Kimura e Yuki Kaiji si uniranno al cast rispettivamente nei ruoli di Ibuki, Free e Pina. Ricordo che il manga in Italia è pubblicato da Planet Manga con il sedicesimo volume uscito il 22 ottobre, mentre la prima stagione anime è disponibile su Netflix. Stando ai primissimi leak del numero 49 di Weekly Shonen Jump, apparsi in rete negli ultimi tempi, sappiamo che nelle prossime settimane faranno il loro debutto all'interno della rivista di Shueisha due nuove serie manga. La prima si intitola Build King e sarà scritta e disegnata da Mitsutoshi Shimabukuro, autore del celebre manga Toriko, che ritorna a pubblicare una sua serie su Jump dopo 4 anni d'assenza. Shimabukuro aveva già pubblicato un capitolo one shot della sua opera nel 2018. Il primo capitolo verrà pubblicato sul numero 50, in uscita in Giappone il 16 novembre. Mentre sul numero 51, in arrivo il 21 novembre, debutterà invece la serie manga Sakamoto Days di Yuto Suzuki, così come Build King. Anche questa nuova opera ha già ricevuto in precedenza un capitolo one shot, il quale è stato pubblicato proprio in questo 2020 fra le pagine di Jump Giga. Magic Press ha annunciato l'acquisizione di Blank di Asumiko Nakamura. Il comunicato dell'annuncio diceva, un nuovo titolo fa il suo ingresso nella famiglia 801. Il 2020 ha visto molti nuovi titoli entrare a far parte della collana 801, avete accolto con calore trappola irresistibile di Ionezzo Nekota, vi siete incuriositi davanti alla Dalia tra le zanne di Inako Takanaga e le vostre reazioni si sono scatenate con la newsletter che annunciava il matrimonio di Lala di Tameko. Ma le sorprese quest'anno non finiscono qui. La famiglia 801 si allarga sempre di più ed è pronta ad annunciarvi l'uscita nel 2021 dell'attesissimo Blank, seguito della fortunata serie Compagni di Classe e DOB di Asumiko Nakamura e arrivato attualmente al secondo volume in Giappone. Shaman King non godrà soltanto di una nuova attesa trasposizione anime prevista per il 2021, infatti la rivista di manga per ragazze Nakayoshi ha annunciato che dal 1 dicembre 2020 ospiterà la sterilizzazione di una nuova serie manga spin-off. Si intitolerà Shaman King and A-Garden e sarà incentrata sul passato di Kanna, Matilda e Marion. Jet Kusamura, già autore dello spin-off Red Crimson, struttura la serie, disegnata da Kiyon Uesawa. Otokozaka si concluderà con la saga in corso dallo scorso agosto. Intitolata Showa Sekigahara En, il capitolo della Sekigahara dell'epoca Showa, il volume 10 della serie, uscito il 4 novembre, ha annunciato che il volume 11 sarà l'ultimo volume della serie del maestro Masami Kurumada, già papà dei Cavalieri dello Zodiaco. Moriarty The Patriot, lo shonen manga di Ryosuke Takeuchi, storyboard, e Icaro Miyoshi, disegni, ispirato ai personaggi dei racconti di Sir Arthur Conan Doyle, raggiungerà il climax del caso finale con il volume 14. Questo volume uscirà in Giappone ad aprile 2021 e potrebbe quindi molto facilmente essere l'ultimo della serie. Super H Axeros, con il capitolo 52 pubblicato sul numero 12 della rivista Jump SQ di Shueisha, è entrato nell'arco narrativo finale, quindi anche per il manga di Ryoma Kitada non ci resta che attendere l'ufficializzazione della data di conclusione. Stando alle indiscrezioni di alcuni blogger giapponesi, l'attacco dei giganti potrebbe godere di una nuova edizione completamente a colori. Maggiori informazioni dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, con l'uscita del nuovo numero della rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha, insieme alla pubblicazione del capitolo 134 del manga di Hajime Isayama. E queste erano le news della settimana, fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi attivando le notifiche e condividetelo sui social. Apriete il box di informazioni qui sotto, molto importante per tutte le info utili su come aiutare il canale e dove seguirmi sui vari social. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!